Voi riposavate, prima cosa velocissima vi faceva bene questo riposo, adesso è un momento in cui questo riposo ti ha permesso di lavorare, di cominciare a ribadire certi concetti, insomma la Ravenna che poi andrà a giocare proprio a Forlì domenica prossima, è una Ravenna che con queste due settimane, no meno perché avete giocato in infrasettimanale, dieci giorni di tempo è una Ravenna con cui hai potuto lavorare bene. Sì, onestamente abbiamo prima dovuto assorbire la strana settimana che ha preceduto lo stop, cioè una vittoria fantastica a Rieti e una grande difficoltà di giocare con Scafati, il giovedì e il venerdì non solo è stato oggetto di riflessione con tutta la squadra, ma è anche stato, è un momento particolare, nel senso che a nessuno fa piacere non riuscire ad esprimersi, ecco io al di là del risultato di come abbiamo giocato, nei ragazzi ho bisogno che questi ragazzi prendano consapevolezza di quello che valgono, che non è onestamente quello che stiamo facendo e quindi dopo la vittoria di Rieti pensavo avessimo fatto un grande passo avanti nella consapevolezza, poi Scafati che ha fatto una partita solida e anche facendo tantissimo canestro e non onestamente mai, questo dimostra che ancora quel processo deve essere affinato e deve essere ribadito ecco, non ci basta una partita in questo momento per essere una squadra che poi prende un filotto di vittorie, ogni partita dobbiamo rimodellarci. Io vorrei arrivare però Massimo a questi concetti che giustamente ti ho chiesto in premessa ma su cui svilupperemo ovviamente un discorso con te, partendo però da quello che ho definito anche in presentazione della puntata, l'orizzonte in questo caso di partenza, nel senso sappiamo tutti quanto è stato straordinario il cammino della tua squadra l'anno scorso e purtroppo come si è interrotto per tutti in modo così brusco, e poi è arrivata l'estate, il mercato ha le sue dinamiche, quella squadra non è stata possibile, diciamo così, da mantenere almeno nella sua ossatura portante. Quindi quello che ti voglio chiedere è fondamentalmente qual è stato il progetto che tu hai condiviso con la società, un progetto nuovo, diverso da quello dell'anno scorso, in partenza di questa stagione. È molto semplice e ha delle dinamiche anche abbastanza facili da spiegare, dopo il Covid c'è stata un'assoluta incertezza ovviamente nella società nell'iniziare o meno nel campionato e in che modo iniziarlo, non abbiamo avuto da subito l'abbrivio per cominciare. Questo ci ha fatto riflettere molto, è troppo facile spiegare perché non abbiamo mantenuto l'ossatura, quindi lo lascio per ultimo anche se sarebbe una premessa, non mi piace cominciare con le scusanti, mi piace cominciare con quello che si vuole costruire. Quindi dopo una serie di riflessioni che onestamente sono state lunghe e anche abbastanza dure, abbiamo pensato di fare un qualcosa di diverso, che era una cosa che ci potesse portare ad avere una prospettiva e non una realtà. Sapevamo che per noi quest'anno era impossibile ripetere l'anno prima, ma lo sapevamo perché siamo uomini di sport e sappiamo come vanno le cose e sappiamo che l'anno scorso tutto è andato per il verso giusto e come doveva andare. Onestamente io sarei un bugiardo se dicessi che all'inizio dell'anno scorso non avevamo programmato per essere primi. E poi come Luca ha detto dalla Supercoppa, noi non me ne vogliono i tifosi di Forlì, ma secondo me è cominciata proprio qua, con un precampionato tentennante e la vittoria di grande carattere e di grande coesione che abbiamo fatto, anche molto fortunata, se vi ricordate con canestre e falli di Sergio, raccolta di Sergio dall'angolo. Forrocambolesca, però quella servì a costruire la chimica, tu chiedevi cosa serve, io sono d'accordo con Luca, che servono degli episodi, cioè c'è sempre la base delle persone, però servono gli episodi, lì ce l'abbiamo avuto. Per cui anche quest'anno abbiamo provato a fare un discorso molto diverso, prima cosa di più ampio raggio, per cui che non doveva durare un anno, non dovevamo navigare a vista per arrivare in un porto vicino alla destinazione, in un porto più lontano. Per questo ci sono tre giocatori del 98 in quintetto. Certo, ma i tre giocatori del 98 sono frutto di queste riflessioni. Poi a me secco, quando faccio le squadre alla fine, ai miei giocatori dico sempre di non essere romantico, ma nello stesso tempo sono abbastanza sicuro delle cose che faccio, per cui senza nessuna vergogna, so, per quello che erano le nostre possibilità, e ribadisco anche a livello di budget, noi abbiamo fatto delle scelte oculate, abbiamo fatto delle scelte oculate sapendo a cosa andavamo incontro. È chiaro che nessuno vuole vincere poche partite e perderne tante, ma non accettarlo sarebbe da stupidi. Siccome io non faccio il tifoso, non faccio l'allenatore, io mi sono molto alterato quando si perde, perché odio perdere, come molti immagino, ma nello stesso tempo devo avere il controllo e la comprensione di ciò che facciamo e da dove siamo partiti, altrimenti metteremo zizzagna e porteremo un qualcosa che onestamente non ci serve. Ascolta Massimo, ti volevo fare un'altra domanda, ma c'è una domanda del nostro telespettatore, che va un po' in linea con quello che ti ho chiesto io e con quello che hai detto tu. Esatto, infatti dicono che quest'estate si era parlato di un progetto di due anni per la A. A giudicare dai roster visti sembra che ci siano 3-4 squadre costruite con un budget diverso rispetto a Ravenna. La Serie A non è un eccesso di ottimismo? Beh, è un eccesso di ottimismo se si fa il discorso del budget. Ci sono due modi per arrivarci. Il Presidente Vianello quest'estate è stato molto chiaro su questo. Queste sono le sue parole che a me piace ribadire. Se io non voglio andare in Serie A come fanno tutti gli altri, cioè dovendo spendere il massimo e superare il budget degli altri e fare la gara di budget, vorrei tentare in un progetto biennale e ovviamente quando si parla di biennio non è realmente che se entro due anni non si fa allora siamo dei falliti. È un progetto che deve avere una base. Voglio crescere qualcuno in casa e con quello che cresco in casa voglio provare a fare la Serie A. Questo è una cosa estremamente intrigante che secondo me ogni allenatore vorrebbe sentirsi dire. E quando queste frasi sono state pronunciate è ovvio che uno è intrigato, questo percorso lo fa. Anche perché, permetti, me lo dico ridendo in modo scherzoso, ovvio che poi un allenatore se ti dice allora il nostro progetto è di quest'anno, noi quest'anno dobbiamo raggiungere questo obiettivo, è un po' come sentirsi mettere subito il fiato sul corpo. È bello allo stesso modo, è bellissimo allo stesso modo. Mi piacerebbe che uno mi dicesse allora questa è la squadra va in Serie A, però è sempre un progetto. Però ecco il fatto di poter prendere dei giocatori, poi adesso magari se arrivano delle domande... Dopo le facciamo anche sui giocatori però ti chiedo però una cosa, quando è iniziato il percorso di preparazione, quindi di allestimento, non solo dell'allestimento sul mercato ma dell'allestimento in campo della squadra, purtroppo questo percorso per voi si è interrotto bruscamente, lo sappiamo, però per la vigilia del campionato, per i casi di Covid che sono scoppiati nell'interno del gruppo. Quanto questa situazione non solo ha inciso nell'immediato ma ha avuto per così dire la coda lunga? Allora, sempre per entrare nel campo dell'onestà, secondo me questo ancora adesso ci crea dei problemi, ma i problemi sono dal punto di vista fisico, di condizioni, di forma, di piccoli e grandi infortuni, perché dopo il Covid siamo stati ogni settimana, poi alcuni li raccontiamo perché il giocatore non gioca, altri non li raccontiamo, ma onestamente da... Prima che rientrassi io, perché anche io sono stato fuori più a lungo di tutti peraltro, prima che rientrassi io abbiamo cominciato ad avere tutta una serie di infortuni, durante la settimana facciamo fatica e i giocatori fanno fatica. Quello che ha affermato onestamente che a 14 giorni fermi, prima dell'inizio del campionato, onestamente anche nella costruzione della chimica, nella costruzione della fiducia della squadra, non ci ha dato una mano. Non è l'elemento rilevante, non è l'elemento determinante e non è l'unico elemento. Non è, ecco, non è connessione quella, ecco. Tu personalmente, il fatto che sei dovuto stare in quel momento della stagione lontano dalla squadra e poi anche inizio campionato lontano dalla squadra, quanto ti è pesato umanamente la situazione e quanto ti è pesato dal punto di vista proprio professionale, di allenatore, non riuscire a dare quella impronta che volevi fin dall'inizio. Sì, umanamente, ve lo lascio immaginare, non ne parlo perché non è questo il contesto, dal punto di vista dell'allenatore è stato per me un delirio. Cioè, quando sono rientrato, io personalmente ho ricominciato da capo, ma non con i concetti, con le dinamiche, ma proprio... e mi sentivo uno nuovo. Cioè, come se fosse arrivato, ok, ah sì, tu sei Simeone, tu sei De Neri, ok, però... Cioè, è stato abbastanza traumatico. Cioè, per me poi rimettermi in carreggiata e anche... Non so come spiegarlo, perché è difficile, è una questione di feeling che si ha all'interno del campo. Non è solo una questione che, ma sei stato l'allenatore, ti hanno visto da agosto a sé... Sì, però nel momento in cui contava io sono scomparso. E a me, senza annullatori, ovviamente gli assistenti hanno fatto un ottimo lavoro, perché io posto loro, sarei stato davvero in difficoltà. Ma non solo, proprio dal punto di vista... Cioè, è una cosa complicatissima da vivere. Sì, è diminuita. Io non faccio fatica a spiegarla, ma anche per loro. No, no, entro un po' tra virgolette nella tua testa, è difficilissimo spiegarla, però capisco cosa intendi e credo lo stiamo capendo anche da casa. Sì, al di là di tutto, c'è una cosa molto più personale che è, diciamo, legata alle dinamiche di squadra. Però ecco, rientrare e dire, ok, adesso mi rimetto ad allenare la squadra, è come se fossi, ok, questa è una squadra nuova e devo capirne di nuovo le dinamiche. Perché comunque ti assicuro che essere per tutti fermi di nuovo per Covid in un momento dove gli altri giocano, o dove gli altri stanno per approcciarsi, dove ci sono le finale. Io le finali Supercoppa le guardavo con la febbre, cioè le faccio anche fatica ogni tanto a capire cosa succedesse, anche alcuni dei nostri giocatori. Secondo me, secondo me fa, quando ti riapprocci, non sei, non hai quel vissuto, molti dei nostri non hanno il vissuto per dire, ok, torno. E quello che ha detto lui, i nostri giocatori a turno, ancora adesso fanno difficoltà, quello che raccontavi di Aristide, sì, ci sono degli up and down durante le settimane. Non conoscendo bene le situazioni lo sopporto. C'ero anche io che non gioco, mia moglie mi vuole cacciare di casa, non mi sopporto più. Ogni giorno mi fa male qualcosa. Mentalmente, in questo momento, la tua squadra, dopo una partenza, eravate partite comunque con due vittorie e dopo ci sono state le serie di sconfitte, com'è lo stato di salute mentale della tua squadra? Devi agire molto dal punto di vista psicologico in questo momento per far prendere fiducia nei tuoi ragazzi oppure non è quello il problema? Allora, per chi mi conosce, questa è una domanda molto complicata per me. Dovendo io dire sempre la verità per attitudine, ti dico che ovviamente, allora, mi piace molto la palacanestro, quindi io parlo spesso di palacanestro e penso che un bravo allenatore e un bravo giocatore di palacanestro debba essere in grado di giocare e reagire alla pressione. E la pressione è di qualsiasi genere, non è solo il risultato, la stagione, ma anche semplicemente il momento della partita o dell'allenamento che ti chiede qualcosa e come tu reagisci. Per cui, nella nostra squadra, i più esperti sanno già come si fa, i meno esperti non lo sanno. I più esperti che hanno anche un anno, diciamo, di vissuto con te. Sì, certo, ci trovavano anche loro, ma anche Givens, James o Ciccerini, che ci hanno vissuto, diciamo, trascorsi, ma non... Ecco, grazie che mettete rieti, così almeno facciamo vedere le due facce della Piero Manetti. Esatto. Quindi, diciamo che dal punto di vista psicologico, io vorrei che soprattutto i ragazzi giovani capiscano come si esca da questa situazione. Allora, una mano cerco di dargliela, ma la mia mano non è continua. Nel senso che presuppongo che il metodo Montessori funzioni poco. Ecco, questa cosa qua. È molto meglio che loro certe volte ci sbattano contro il problema e che trovino una soluzione, aiutati dai compagni e aiutati anche da me. Io più dal punto di vista tecnico e sportivo che dal punto di vista emozionale. Quello che di sicuro ci manca è, certe volte, avere un trasporto in mezzo al campo. Onestamente, io senza vergogna ti dico che per l'incazzatura, adesso lo dico perché ho detto arrabbiato, ma intanto siamo in seconda, fra la prima e la seconda sera. Siamo così, a cavallo. A cavallo. Domenico, ho scaffato, ho strappato la camicia, cioè non ce la facevo più, io sono rimasto con la maglietta. Anche dell'Agnella che ha distrutto una sedia, ferrava comunque. Certe volte mi piacerebbe che la squadra avesse questo tipo di trasporto perché li aiuta ad uscire dai momenti difficili. Ecco, su questo siamo ancora... Però ecco, abbiamo avuto altri momenti difficili dove ho visto la squadra andare. Loro si parlano, il gruppo è sano, molto sano. Non ho neanche un personaggio particolare. Forse da una parte quello è un problema, forse dall'altra non lo è, non lo so. Però sono tutti ragazzi che lavorano tanto e che si stimano. E certe volte fanno qualcosa per l'altro e non qualcosa per se stessi. È una cosa che a un allenatore piace tantissimo, però poi quando devi andare a vincere una partita... Concretamente. ...certe volte potresti fare qualcosa per te. Dopo ti sollecito su questo. Massimo, invece, questo tour de force vostro, obiettivamente ci sono partite molto importanti nel vostro range di classifica attuale, ovvero Chieti, Eurobasket, due volte con Chieti addirittura, per non dimenticare ovviamente il derby che si gioca a Forlì domenica. Quanto indirizzarà veramente la vostra stagione questo mese di febbraio? No, ma questo mese indirizzarà la stagione... Quando sei già abituato, diciamo, nella lunga militanza milanese, capire cosa significa giocare ogni tre giorni, che se riesci a prendere mentalmente una serie positiva, questo può aiutare molto. Secondo me è volto solo in positivo, se invece riesci ad avere la possibilità, dopo una sconfitta, di giocare ogni tre giorni, quindi non leccarti le ferite, doverti ribadire di nuovo il perché, il come sono successe le cose, è positivo. E' chiaro che noi veniamo nella serie di cinque sconfitte della precedente ondata, erano quasi tutti infrasettimanali, quindi per noi è stato complicato, ecco, c'è poi, riprende molte rocambolesche, come ricorderete, molte altre no, con Napoli, soprattutto con Forlì, ma ecco, non è stato facile, ma io comunque questa la vedo in maniera positiva, poi onestamente adesso la trasferta in casa purtroppo conta poco, conta la lunghezza dei viaggi, noi dal 17 al 28 siamo sempre in trasferta e facciamo di media ogni tre giorni 12 ore di pullman, che si va scafati e poi dobbiamo tornare a Roma, poi andiamo a Chieti e poi andiamo a Napoli. Quello mi preoccupa a livello di gestione delle energie, ecco, quello sì. Questa slide riguarda un po', chiamiamola così, il rebus di Ravenna, perché io andando a fare quello che posso fare, cioè analizzare anche in maniera sommaria i numeri, vedo che su certe statistiche macro o micro, Ravenna non ha solo delle statistiche da decimo posto, ha anche delle statistiche importanti, ad esempio da molti piassi di Forlì, giusto per fare un esempio, concede agli avversari il 46% da 2, siete la seconda miglior difesa come percentuale da 2 concessa agli avversari, De Negri è comunque pur sempre il miglior tiratore da 3, voi stessi siete la squadra che come seconda tira bene da 3, bene nelle vittorie molto, in certe sconfitte invece decisamente diverso. Ci sono anche del down ovviamente, percentuale tiri liberi, i falli commessi, pochi tiri liberi, non percentuale scusa, pochi tiri liberi tirati, più che percentuale di tiri liberi, e poi dopo abbiamo messo anche tre giocatori, ma non per mettere la croce addosso a questi qui, ma perché certe statistiche vanno un po' soppesate. Allora, prima di tutto ti chiedo, insomma, bicchiere ovviamente vanno viste le famose metà del bicchiere, in questo momento, insomma, è un rebus anche per te, sui duecenti punti di vista della squadra, tenendo conto delle premesse di cui mi parlavi in inizio trasmissione. Allora, sulla parte, sulla freccia rivolta verso l'alto è una cosa su cui noi onestamente lavoriamo, sul chiudere l'area, infatti, noi, quando perdiamo le partite, veniamo bombardati di base. Siccome non siamo una squadra, cioè questo non è un, una, come dire, agli occhi di tutti, non siamo una squadra che esprime una fisicità clamorosa, quindi noi dobbiamo, quest'anno, avere, è più accortezza nelle cose che facciamo, e dobbiamo decidere quali rischi correre, questi rischi, parlo difensivamente, spesso sono delle situazioni che ci portano a dei grandi vantaggi, vedi le statistiche che hai sottolineato, certe volte, come è successo per esempio con Scafati, che è stata estremamente perimetrale con noi, ci ha messo in tremenda difficoltà, però noi dobbiamo avere un'identità, e quella di coprire l'area è quella che dobbiamo necessariamente avere. Per quanto riguarda le statistiche offensive, secondo me va tutto contestualizzato alla tipologia di partite che giochiamo, e alla difesa che incontriamo, e secondo me, per esempio parlo della partita di Forlì, o anche quella di Napoli, anche all'interno della partita, le situazioni che si vengono a creare, perché noi spesso per mancanza di vissuto, quello che ci riesce peggio è dover trasformare la nostra partita durante i 40 minuti. Quando noi riusciamo a essere costanti nelle cose che facciamo, quindi subendo canestro, facendo delle buone difese, facendo dei canestri, e facendo anche delle grandi azioni meno da sottolineare, soprattutto gli ufemismi. Sì, Vento sta leggendo tra le righe. Non tentennavo per mancanza di vocabolario, ma per evitare. Sta leggendo tra le righe. Quando noi riusciamo a essere costanti, secondo me facciamo sempre delle buone partite. Infatti, io non mi lamento di come ci approcciamo agli altri, cioè di come ci approcciamo alla partita. Durante la partita ci sono dei momenti dove noi veramente perdiamo la bussola e spesso accade anche per ciò che ci propone l'avversario. È la difficoltà in quel momento ad adattarci alla nuova situazione. Lì prendiamo i break e poi quando prendiamo i break, ovviamente... Allora ti faccio una domanda diretta. Certo. Ripensando ovviamente alla squadra che è stata costruita quest'estate, quello che a me, però da esterno, che comunque ha visto tutte le vostre partite, colpisce, forse, può essere come limite una mancanza di, chiamiamolo così, adesso dire leadership è una parola troppo grossa e forse che ingloba troppi concetti. In certi momenti avere i punti fermi da cui andare e sapere che sono quelli, è quello che manca. Allora, sempre a tutti, in questa trasmissione le domande sono sempre... cioè danno le connessioni dei neuroni devono essere sempre ben accese, perché fai sempre domande pertinenti e importanti. Allora, e non è una battuta. No, no, ti ringrazio. Ci sono... All'interno di questa costruzione, cioè all'eserro della costruzione di una squadra ci sono degli obiettivi che uno si prefigge. Quindi quando costruisci una squadra di solito ha dei parametri. Ecco, all'interno, per come l'abbiamo pensata, questa doveva essere una squadra che aveva di sicuro una coralità diversa. L'abbiamo pensata così. Questo soprattutto per la presenza veramente molto gradita di Cinciarini, che è un giocatore che a me piace e che mi piace il modo in cui approccia e la tipologia di... di garra, come la chiamava lui. Per cui volevo che la squadra fosse un... condividesse di più. Ok. E quindi in questo contesto trovare dei giocatori complementari fra di loro, ecco, cioè che avessero degli ingranaggi. Per fare una cosa del genere ci vuole molto lavoro e ci vuole che tutto funzioni per bene e ci vuole che la squadra si affidi completamente al compagno. Noi certe volte abbiamo questo problema. Quando perdiamo abbiamo questo problema. E la leadership potrebbe essere il sistema, potrebbe essere il gruppo, potrebbe essere il momento di difficoltà, potrebbe essere il momento di entusiasmo. E' quello invece in cui noi non siamo ancora riusciti ad entrare. Scusami, giusto per sottolineare una cosa, nella costruzione della squadra la cosa che deve essere... che è importante valutare è prendere dei giocatori in atto e prendere dei giocatori in potenza. Ecco. Ecco, noi almeno... e quindi basta dire i giovani o basta dire i veterani o basta dire tutte le baggianate che si dicono, ma i giocatori che hanno avuto un ruolo prima non primario, ma comprimario, anche se con tanti minuti, ma comprimario, metterli nelle responsabilità e dargli tutto in mano è un processo molto lungo. Molto. Di cui non bisogna spaventarsi, dove bisogna aiutarli, ma soprattutto capire che se non c'è un risultato il fatto di aver preso i giocatori che devono diventare e non che sono. Ah, se si capisce questo concetto si sta molto più tranquillo. Molto interessante, molto importante, spero che lo state anche voi da casa interpretando come giustamente l'ha enunciato Coz Cancellieri. Crede che la società debba intervenire sul mercato? Che difficoltà ha James ad inserirsi nel gioco della squadra visto che al momento del suo ingaggio sembrava essere una perla e si sta rivelando una delusione? A questo punto del campionato a che obiettivo possiamo ambire? Salvezza o qualcosa di più? E infine possiamo sperare in un Cancellieri resterà anche il prossimo anno? Sempre forza Leoni giallorossi. L'ultima parte mi rispondi dopo. Esatto. Rispondi le altre due. Mi sono dato cinque le domande. No, esatto. In realtà ce ne sarebbe un'altra ancora ma è sempre inerente a questo perché parlano sempre di James. Siete sul mercato. Allora. E James. Esatto. Ti dico la mia. James pensavate che potesse dare un po' più di aiuto in regia? Ma la butto lì io, eh? Beh, alcuni dei suoi sostenitori suppongono di sì. Secondo me, no. No, anche per me. Ecco. Però forse è stato un fraintendimento. Allora, quantomeno. In una squadra allenata da me il concetto di playmaking è diverso da quello che potrebbe dare lui. Quindi se in una squadra molto che gioca freelance che noi in Italia ne abbiamo pochine, eh? Nel senso che è uno stile molto più americano. Questa squadra lì può essere considerato un playmaker. Secondo me qui in Lega 2 no. Difficile. Difficile. La storia del mercato sì. Secondo me sì. Dobbiamo farlo. Adesso non è semplice perché ovviamente quest'anno le condizioni sono cambiate. Ci sono molti meno giocatori disponibili. Molte situazioni che sembravano traballanti che invece vivono in maniera serena e conviviale. e quindi i giocatori che hanno dei problemi o di ritardi di pagamenti o problemi ce ne sono veramente pochi. Secondo me farlo... Per il mondo della palacanestra è positivo questo perché insomma i momenti che viviamo... Visto dal mio punto di vista no. Ma lo so. Secondo me bisogna guardarci. Quello che facciamo ora è guardare e riflettere su cosa possa servire rispetto a quello l'obiettivo reale che possiamo avere. Quando abbiamo fatto questa riflessione qualsiasi cosa accada sarà la cosa che avremo scelto e la cosa che funzionerà. Ma sì bisogna che ci si guardi intorno. Secondo me assolutamente sì è giusto nei nostri confronti e appunto perché quando la potenza deve diventare atto e lì ci possono essere gli intoppi. Quando ci sono non è brutto a dirsi. No. E non è brutto neanche ammetterlo. Assolutamente. Anzi è un senso di intelligenza estrema e di consapevolezza estrema perché quando si costruiscono le squadre cioè la parola non è una scienza. Quindi si costruiscono appunto sempre pensando al meglio che possa capitare poi qualcosa se non va mi preoccupa. Mi prometti che mi rispondi di venire abbastanza flash a questa domanda sugli obiettivi perché prego la regia di rimettere un attimo la classifica se possibile della Serie A2. Io prego di non rimettere. No perché in realtà voi avete un 2-0 pesante con Rieti in quella vostra fascia. Il sesto posto apparentemente distante ma se pensiamo a ricordiamoci la seconda fase prime 3 in un girone quarta, quinta e sesta in un'altra settima, ottava, nona in un altro ancora. Il sesto posto non è così lontanissimo soprattutto va evitato il decimo perché il decimo vi chiunque arriverà a decimo sarà fuori dalla possibilità di lottare per il playoff. Guarda della classifica vorrei che si guardasse innanzitutto cosa che mi conforta molto il numero delle partite giocate rispetto alle altre squadre cioè siamo gli ultimi ne abbiamo 11 un paio ne hanno 12 e poi altre due più di noi quindi questo ci permette di avere delle possibilità e quindi gli obiettivi andranno in base a quello che sapremo fare in questi due mesi secondo me adesso è veramente molto presto così come è presto per Forlì poter dire anche se voi volete fare il sondaggio andiamo nelle prime tre o no molto giornalistico e molto da tifosi è chiaro che a oggi mi sembra abbastanza prematuro visto che poi c'è proprio la struttura di questo campionato strano anomalo anomalissimo assolutamente non ti permette di poter fare previsioni